In pieno centro d'Aosta, in una zona comoda dotata di ampio parcheggio, sorge Method, il centro odontoiatrico che oltre ai classici servizi dentistici offre molto di più. Cortesia, professionalità e pulizia contraddistinguono il team del dottor Roberto Nassisi, che dopo un'attenta valutazione delle necessità di adulti e bambini, interviene con le più innovative terapie. Accoglienti e moderni spazi sono stati predisposti per offrirvi numerosi servizi, come quelli di implantologia a carico immediato, protesi fissa e rimovibile, sedazione cosciente, estetica dentale, ortodonzia tradizionale e invisibile, ma anche medicina estetica. Il centro odontoiatrico metodo vi aspetta. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS